mi dai uno stimato indicativo di arrivo al campo secondo quello che dice il navigatore allora il navigatore da un tempo stimato di neanche due ore per 140 km in cambio allora facciamo quest'area qui tutta per noi strangelis del tennis dal mie c'era c'è un tunnel di qua e un tunnel di là a posto qua sempre 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.